Cosa vogliamo andare a fare oggi? Come te li vuoi vedere qui nei capelli? Qual è il tuo risultato finale? Lisci! Lisci? Senza doverli piastrare in continuazione, che si vede. Ok, anche penso a meno gonfi, no? Sì, soprattutto. E quando li asciughi a casa ti si gonfiano? Un sacco. Ok, lisci e meno gonfi. Andiamo appunto ad avere un risultato molto liscio, quindi quando li asciugherai a casa col phon, basta fare così e ti ritrovi un bel liscio. E lisci sarà anche luminoso, il capello rimarrà bello morbido e tutto questo gonfio qua andrà a sparire. Esatto. Bravo! Sei pronta? Prontissima! Ok, iniziamo! Come vanno asciugati a casa i capelli dopo la lisciatura? Con le mano. Tieni il phon in alto e con la mano e i pezzini. Ciao! Grazie a tutti